ciao a tutti ragazzi ciao a tutti bentrovati come promesso oggi vi faccio vedere la seconda squadra che ho costruito all'asta del fantacalcio questa volta vi parlerò dell'asta che ho fatto insieme agli altri ragazzi abbonati spero che l'abbiate seguita l'altra sera in live intanto grazie a tutti quelli che hanno partecipato sia gli abbonati in questo fantacalcio ma anche a tutti i ragazzi della chat a un certo punto era l'uno e un quarto eravamo in più di 700 a vedere la live e soprattutto abbiamo anche superato i mille like in live quindi grazie davvero a tutti a quelli che si sono iscritti che si sono abbonati che hanno donato grazie grazie a tutti allora era un fantacalcio a 10 giocatori con 300 crediti modificatore classico e nessun bonus di porta inviolata mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi lasciate un like attivate la campanella e adesso vi faccio vedere la squadra allora in porta siccome tanti top sono andati oltre al 10 per cento o comunque molto vicino al 10 per cento scelgo di fare una strategia un po' più low cost rispetto al solito e quindi vado a prendermi drogonski al 5 per cento del budget con terracciano e poi completo il reparto con milinkovic savic del toro in difesa siccome vittorio fa la strategia del doppio top teo e quadrado entrambi al 10 per cento abbondante go sense va oltre al 12 per cento decido di fare una difesa low cost ideata per un 3 4 3 e quindi il mio intento era poi di spendere un po di più a centro campo ma che all'occorrenza come vedrete se ne ho bisogno posso anche giocare a 4 dietro perché perché prendo acerbi a 12 top da modificatore demiralla 5 e io scida a 4 due ottimi difensori che secondo me avranno una discreta media voto palomino a 2 e vado a completare il reparto con carboni a 1 toljan e muldur entrambi a 1 e schnegg a 1 quindi in difesa spendo molto poco questo mi fa arrivare al centro campo da chip leader e allo stesso tempo comunque 4 nomi da modificatore all'occorrenza all'occorrenza li avrei anche perché ho deciso di fare questa strategia perché il modificatore classico il punto ok è importante i tre punti prenderli è abbastanza difficile quindi o ci vai a investire pesantemente o secondo me tanto vale stare sul low cost comunque andando a prendere due o tre giocatori affidabili che mi permettano almeno anche se dovessi giocare a tre di avere tre sufficienze sulla carta a questo punto a centro campo avendo risparmiato in difesa posso andarmi a fare un bel centro campo e quindi vado a prendere felipe anderson al 7 per cento zaniolo al 10 per cento perfetto mi piace anche l'alternanza lazio roma avrò sempre una squadra in casa e una fuori quindi non è stata casuale questa terzo slot barella meno del 5 per cento giocatore costante qualche bonus che dà sostanza che dà regolarità a questo centro campo bayrami a 10 al 3 per cento del budget lo prendo quando l'empoli avrà partite abbastanza abbordabili lo metterò sempre contro le grandi valuterò di volta in volta e bayrami si giocherà il quarto slot spesso con pasalic anche qui lo vado a prendere al 3 per cento per me pasalic a queste cifre si prende sempre e comunque completo il reparto con torsby sesto slot regolarista con qualche bonus e poi come settimo ottavo slot voglio prendere due giocatori che sono nettamente meno buoni degli altri in questo modo non avrò troppi dubbi di formazione cosa che invece non avevo fatto nel fantacalcio dell'altro giorno quindi prendo come settimo slot rabiot a 1 che comunque qualche volta potrebbe anche tornare utile e mandragor a 2 titolare inamovibile del toro ma che non metterò quasi mai spero in questa formazione arrivo all'attacco sempre da più ricco ma in 4 5 squadre siamo molto vicini a livello di crediti e siccome immobile va oltre al 37 per cento la mia offerta massima era stata 105 viene pagato 108 come primo slot prendo muriel a 87 che mi dovrebbe garantire almeno una ventina di golle e lo pago meno del 30 per cento quindi meno del previsto a questo punto come secondo slot vado ad affiancargli murata a meno del 10 per cento del budget murata è un altro giocatore che anche considerati i prezzi che vedrete poi nel prossimo video dove vi vado ad analizzare tutte le squadre per me a 28 è un ottima presa l'anno scorso ne ha fatti 11 con cr7 io quest'anno spero che almeno 13 di faccia e magari anche qualcuno in più come terzo slot vado a prendere uno dei terzi slot ideali in un fantacalcio a 10 che è mancuso classico titolare rigorista di una squadra medio piccola in certe partite la coppiata bairami mancuso spero mi porterà diversi bonus l'empoli è una squadra che gioca che subisce tanto ma che crea anche tanto e quindi mancuso a 18 6 per cento del budget ottimo terzo slot a questo punto vado a prendere il quarto slot ideale voleva essere losano o politano prendo politano a 9 crediti un giocatore da 6 7 gol da alternare a mancuso quando l'empoli avrà partite molto difficili quinto e sesto slot sono due scommesse ma che poi così scommesse non lo sono neanche perché prendo henry titolare del venezia vedremo questo giocatore che cosa andrà a fare e poi come sesto slot a 4 crediti vado a prendere la vera star di questa squadra il giocatore su cui si basano le fondamenta di questa squadra che è ovviamente beto il grande beto giocatore che abbiamo imparato a conoscere insieme in live abbiamo visto la sua esultanza arrogante alla lebron james abbiamo visto la sua rovesciata la sua mole importante unita anche una discreta tecnica e scherzi a parte ragazzi io credo che l'udinese beto lo andrà a pagare 10 milioni quindi qualche qualcosa di buono questo giocatore lo ha può essere davvero un giocatore scommessa vedremo ragazzi l'udinese davanti a tanti giocatori bravi tecnicamente come de lofeo come possetto ma il ruolo di prima punta vero c'era okaka ma è un giocatore okaka che gioca soprattutto spalle alla porta mentre invece beto è uno che gli piace segnare gli piace buttarsi dentro e quindi insomma io credo che beto alla lunga potrebbe davvero regalarmi delle soddisfazioni ma in ogni caso beto era l'unico giocatore fisso che avrei dovuto prendere a tutti i costi in questo fantacalcio perché lo dovevo lo dovevo a voi lo dovevo a chi mi ha seguito in live a chi ha seguito l'asta del fantacalcio a chi ho seguito chi era in chat quindi beto era il giocatore chiave che doveva esserci a tutti i costi ragazzi come avete visto ho cambiato strategia l'idea è quella di un 3 4 3 ma quel tipo di difesa qualora pasalic non dovesse giocarmi qualora bairami dovesse avere una partita difficile mi permette anche di giocare a tre e mezzo con zagnolo felipe anderson e barella e all'occorrenza giocare a quattro dietro con acerbi demirale yoshida e uno degli altri a seconda della partita che avranno sulla porta sono stato low cost ma comunque fiorentino e toro per me in difesa quest'anno faranno meglio dell'anno scorso a seconda della partita andrò a decidere di volta in volta e poi come vi ho già accennato prima nel prossimo video vi farò sempre come faccio in questi casi l'analisi di tutte le squadre della lega così andremo a vedere anche cosa hanno combinato gli altri nove ragazzi abbonati ragazzi è stato un piacere come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se non l'avete ancora fatto attivate la campanella alcuni di voi mi hanno scritto profeta ti seguo sempre ma non mi iscrivo al canale perché mi danno fastidio le notifiche ragazzi basta iscriversi e poi disattivate le notifiche ok quindi sarete voi poi a venire a vedere i video quando ne avete voglia però iscrivetevi e poi togliete le notifiche ok semplicissimo basta che disattivate la campanella ci cliccate sopra e vi viene fuori la barretta sopra la campanella grazie mille ragazzi è stato un piacere ciao a tutti e alla prossima ciao